Il Partito Comunista dei Lavoratori critica il protocollo d'intesa stipulato dal Governo e dalle parti sociali e relativo alla ripartenza delle attività produttive. Auspica una forte mobilitazione per conquistare più sicurezza per tutti i lavoratori. Nel Partito Comunista dei Lavoratori sono sicuri di un fatto, che il protocollo d'intesa tra il Governo Conte e le parti sociali sia un percorso che di fatto sacrifica la salute dei lavoratori alle esigenze del profitto. Una situazione che afferma ovviamente riguarda anche la classe lavoratrice molisana dalla FCA di Termoli alle aziende del Basso Molise e sino al nucleo industriale di Pozzilli. Un segno di distingo già è evidente nell'accordo quanto per le direzioni aziendali si scrive un possono, mentre per le maestranze si sceglie un termine di obbligo, cioè devono. L'esempio viene da una prima lettura, quanto si afferma che in caso di febbre superiore a 37,5 gradi i lavoratori giustamente devono restare a casa e informare subito l'azienda, mentre la stessa azienda potrà disporre di misure protettive. Si rileva un'altra stranezza. Le mascherine dovranno essere garantite solo qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza minore di un metro, ma a parte i dubbi sulla sufficienza di tale prescrizione, il punto è che la dotazione di mascherine non è di fatto un obbligo dei padroni, poiché è evidente legata alla loro disponibilità in commercio. È facile intendere che se in commercio non se ne trovano non c'è nessun obbligo padronale. Naturalmente a ciò si aggiunge la grave deficienza dei tamponi e test sanitari che sono essenziali. L'unica novità del protocollo sembra essere la previsione di nuovi comitati territoriali che dovrebbero vigilare nelle proprie zone sul rispetto delle norme sanitarie. Ma questo, affermano dal Partito Comunista dei Lavoratori, è un punto indefinito e fumoso.